Open Up nasce come idea durante il lockdown dal sentirsi e percepirsi in una situazione in cui qualche cosa continua a martellare, a martellare, a martellare e allo stesso tempo non ha strumenti per uscire da questa situazione. Questa percezione, questa sensazione è stata tradotta a livello artistico nell'immagine di una goccia cinese che ti cade sulla testa, tu senti il fastidio ma non hai capacità di modificare questa situazione. Con il suono cerco di creare degli spazi che aprono in altri momenti invece a paesaggi differenti. Grazie.